ok andiamo a prendere sta roba qua un'altra maschera 4 su 9 non riuscirò mai a prenderle tutte è impossibile secondo me mi metto una nascosta che non troverò mai mai ok ok ho guardato un attimo il tempo perchè non vorrei sfolare vai leggi in due in tre o come siamo sentirci soli non possiamo un enigma ci sarà un indizio secondo me è famiglia in due in tre sentirci soli non possiamo famiglia dovrebbe essere famiglia si sono tornato giù dobbiamo congelare questi pezzi qua quanto pane prima congeliamo quello interno non sembra ancora niente no secondo me l'ho congelato male cioè l'ho scongelato male devo devo girare un altro po' aspetta che gira adesso ok ora devo ora devo congelare questo qua in basso vai fatto vai digita la parola le famiglie giusto ragazzo cosa dicono le rune oh dicono famiglia non è un indizio è la risposta sentirci soli non possiamo no traccia le rune nella sabbia con il pugnale davvero si davvero che succede eh si apre ma cosa succede possiamo andare avanti non so come funziona il meccanismo però si è aperto quindi si è aperto possiamo andare iscritti andiamo avanti andremo via un'altra massa le masse danno esperienza quindi vanno presa anche se è pochissima esperienza quindi adesso mi sto sbrigando perché so che c'è so che dobbiamo affrontare dei prossimi combattimenti diventerà lunga quindi non voglio fare episodi di 50-60 minuti voglio fare più di 10 minuti quindi va vai caccia con la treus ancora ancora caccia con la treus cos'è quello no ma ce n'è uno simile all'inizio della storia Brenna Daudi Brenna Daudi ha la vita viola ha la vita viola che che è mi ha quasi colpito vai dall'altra parte corri un po' di vita glielo ho tolta eh ha la vita viola devo distruggere quelli piccoli prima no vedi che mi colpiscono quelli piccoli se la posso fare la furia non voglio utilizzarla anche perché non vedo pet di furia quindi non vorrei sprecare la furia per niente meno male che oltre qua ho pochi attacchi e attacchi che non mi beccano subito appunto basta stare un po' lontani e non ti becca questo l'ho imparato eh infatti vedi che sennò mi sferda quei colpi lì e mi stende perché la vita viola quindi vuol dire che farà molto danno cosa volevi fare ok attenzione ah c'è il pet di furia comunque però non voglio utilizzare la furia anche perché se ho un pezzo di furia non mi da la furia piena piena quindi devo devo giostrarmi ma quante le lanci di roba infuocata cavolo non mi sa per beccare qua c'è il pet di vita ma non voglio raccoglierlo adesso se mi sa ve lo prendo è a metà vita eh è viola quindi ok no quelli piccoli ok ok ha preso fuoco quello piccolo ok mi ha quasi colpito ma non c'è riuscito anche quello grosso mi ha quasi colpito due c'è un altro ah c'è un altro lì ahia mi ha colpito questa volta mi ha colpito e anche lui mi ha colpito mi tocca rifare la battaglia se perdo ahia e mi ha ucciso è difficile è molto difficile vai ripetiamo la checkpoint che probabilmente inizio battaglia se inizio battaglia mi tocca riuccidere la sua vita faccio poco danno e lui me ne fa tanto eh è la destra poi c'è un altro pezzo di vita ok batteria scarica non ci voleva vediamo che non si scarichi la batteria se il caso si scarica la batteria mi fermo un attimo cambio il joystick cambiamo ma dovrebbe resistere per 20 minuti 19 più che altro aia eh lo sapevo io che quello è morto sembra che quando chiudo quelli piccoli quello grosso si incavola ok non sono della stessa razza quindi non dovrebbe incavolarsi forse sono suoi amici aia e lo sapevo io ok uso tutti i pezzi di vita che trovo perché questo è un combattimento difficile non so neanche se riuscirò a farlo adesso quindi io ci riproverò finché non ci riesco ho tolto un pezzettino di vita quando lancio il fuoco devo stare indietro il più possibile tecnica incredibile adesso possiamo passare dall'altra parte bravo te la si distrailo quando le mette il sasso per terra è per pararsi ok ho tolto un terzo della vita vai treos sparagli bravo treos adesso ti è il fuoco ok ora passiamo dall'altra parte che è il momento giusto per passare quasi metà vita la tecnica giusta è questa adesso arriveranno quelli piccoli lo sapevo io eh lo so mi sono fatto beccare non posso schivare tutto io eh quel lì mi ha quasi beccato eh ne mancano due e un corno no non devo passare adesso due piccoli e ne mancano ok a questo punto non ce l'ho mai arrivato ma ne manca un altro dai però dai ma non troppi devo colpire forza quelli piccoli ma sono troppi non ce l'ho mai non ce l'ho mai Grazie a tutti.